Buonasera, stasera facciamo lezioni di religione, è vero, facciamo lezioni di gattolicesimo. Questa battuta un po' stupida mi dà l'agio di dire perché, che è di Alberto Mattioli, che è un gattolico praticante. Lui ci spiegherà in cosa consiste l'adesione a questa religione, ma è abbastanza comprensibile. No, va bene, siamo qui per festeggiare l'ingresso nella stagione d'opera e di balletto del teatro di un musical, un musical che, se vogliamo, è sia opera che balletto, per definizione. Musical Cats, che è forse il musical più visto nella storia da che esiste questo genere, la vediamo in una produzione che porta la firma del cast creativo originale e quindi ha, come dire, un pedigree, se possiamo dire così, di primo livello. Tantissimi interpreti sul palco, sono 27 i cantanti e i ballerini che agiscono sul palco per sei recite. Non me ne perdete, il teatro si sta riempiendo, pressoché verso l'esaurito. Non me ne perdete, così sarete tra i 73 milioni che hanno visto questo musical a partire dall'81, l'anno da cui ha calcato le scene, Londra, Broadway e per tutto il mondo. Stamattina sulla stampa Alberto Mattiori ha lanciato una provocazione, o forse ha detto la verità. Questi sono, è una moda o sono i classici di oggi? Rispondici tu, grazie. Allora, buonasera. Buonasera, ciao a quelli che conoscono, anzi miau. Allora, io sono molto felice perché questa sera si parla delle due cose più belle che esistono al mondo, cioè la musica e i gatti. Io in effetti sono un gattolico credente, praticante, ritengo che l'esistenza della musica e dei gatti siano le uniche due prove certe dell'esistenza di Dio e pertanto, voi capite, sono felicissimo perché Cats, come tutti sapete, vuol dire gatti ed è un'opera, chiamiamola così, anche se in realtà è un musical, interamente dedicata ai gatti. Tutti gli autori sono vestiti a gatti, tutti gli autori si muovono come gatti, anche se non saranno mai altrettanto eleganti e quindi è una grande celebrazione, diciamo, del felino in musica. Se siete d'accordo, io dividerei questa chiacchierata in tre atti. Allora, nella prima, naturalmente, inframmezzati come sempre, come nostra consuetudine, da dei momenti musicali e anzi video. Questo è il video ufficiale di Cats, cioè quello realizzato dallo stesso autore verso la fine degli anni 90 e con la stessa produzione originale, che è quella che vedrete a Reggio, e in gran parte anche con lo stesso cast. Dunque, dicevo, tre atti. Nel primo vi racconto un po' Cats, perché, insomma, poi è questo l'oggetto della conferenza. Nel secondo, io appunto parlerei di questo problema, se vogliamo usare un parolone estetico, ma non sarei così pretenzioso, cioè della curiosa circostanza di un musical portato in un teatro d'opera. Curiosa, peraltro, solo per, come vedremo, per le usanze italiane, perché è una cosa che non solo esiste da diverso tempo in quasi tutto il mondo, ma, secondo me, è una tendenza inevitabile. Inevitabile per chi non è d'accordo, ben inteso. Io sono contentissimo che si fassero i musical nei teatri d'opera. A questo punto, alla fine, al secondo atto, chi non è, non condivide la fede nel gattolicesimo, se ne può tranquillamente andare, non ci offendiamo, vada pure a portare fuori il cane, visto che bisogna farlo, e noi invece parliamo del ruolo fondamentale che ha il gatto non solo delle nostre vite, ma della storia della musica. E in questo senso mi permetterò di proporvi anche un paio di ascolti abbastanza inconsueti che documentano il ruolo fondamentale di questo nobile animale non solo nella felicità domestica nostra, ma anche nella storia della musica e del teatro musicale. Allora, cominciamo dall'inizio. Cos'è Ketz? Beh, Ketz, intanto, è uno dei spettacoli di maggior successo della storia dell'uomo, sostanzialmente, e, come spesso accade, debutta sotto pessimi auspici. Nel senso che, intanto, diciamo che l'autore si chiama Andrew Lloyd Webber, è un signore inglese, figlio d'arte, papà compositore, mamma violinista, fratello violoncellista, classe 1948, precocissimo, una specie di Mozart del musical, scrive le prime canzoni a sei anni, e autore di un 17 musical, fra cui titoli che avete forse visto in teatro e sicuramente sentito nominare, tipo Jesus Christ Superstar, tipo Evita, tipo Il fantasma dell'opera, tipo, appunto, Ketz. Tanto di successo che è stato fatto prima Baronetto, e poi nel, credo, la metà degli anni 90, Elisabetta II lo ha nominato pari del regno, quindi lui adesso è lord, è il barone Lloyd Webber di Sidmonton, notate che è una distinzione rarissima nel caso di musicisti, i più importanti musicisti britannici del Novecento, cioè Britain e i Beatles non sono mai stati fatti pari del regno, sono semplicemente cavalieri. E, diciamo, il rovescio della medaglia, per passare dagli onori a qualcosa di più consistente, il Lord Lloyd Webber è, secondo una statistica del 2006, l'ottantasettesimo uomo più ricco del regno, con una fortuna stimata in circa 700 milioni di sterline, che sono un miliardino dei nostri euro. Quindi, come vedete, il musical posso anche rendere piuttosto bene. Dicevo, il soggetto di Ketz è tratto da un stranissimo libro di Thomas Terneliot, grande poeta, premio Nobel per la letteratura nel 1948, l'autore dei quattro quartetti, di terra desolata, di assassino della cattedrale, ed è un librino che esce nel 1939, che ha una strana storia, si chiama Old Possum Book of Practical Cats, che potremmo tradurre come il libro dei gatti tuttofare, e che nasce in realtà, sono le lettere, le storielle, le filastroche, che hanno come soggetto i gatti, che Iliot scrive per i nipotini, che poi pubblica, che il giovane Lloyd Webber legge, e tanto gli rimangono impresse che dopo molti anni decide di fargli un musical. E qui, dicevo, lo scetticismo è generale. Scetticismo è generale perché intanto gli dicono, guarda, è impossibile che un musical sia un soggetto del genere, lui veniva dal successo di Jesus Christ Superstar, quindi siamo sempre nell'ambito della divinità, però passare da Cristo ai gatti, in effetti è abbastanza sconcertante. Molti finanziatori si rifiutano di partecipare, perdendo così l'affare del secolo, tanto che lui deve impegnare la casa di campagna per pagare la produzione. Poi c'è il problema che la prima debutta al New London Theatre, che ha una fama un po' iettatoria, perché gli ultimi spettacoli che avevano debuttato lì erano stati dei fiaschi. Io ricordo che il sistema teatrale dei musical che vive sui due grandi poli, che sono il West End londinese e Broadway a New York, è un sistema privato, è un sistema di speculazione, non esiste contributo pubblico. Parliamo di teatri privati, gestiti dai impresari privati che ci mettono i loro soldi. Poi ci fu il problema che durante le prove è la protagonista designata, che è Judi Dench, che voi conosce, la nuova capa di 007, grandissima attrice espiriana, si rompe un tendine. Per cui a pochi giorni della prima non c'è più la protagonista, arriva di corsa Elaine Page, che poi fu una meravigliosa grisabella, che è quella che sentirete anche stavolta. Insomma, scetticismo generale, l'11 maggio 1981 va in scena Cats a Londra, al New London Theatre, e ci resta ininterrottamente per 21 anni esatti. L'ultima recita, 11 maggio 2002, dopo che i Cats viene messo in scena per 8.949 volte. È tuttora il record del West End londinese. Poco dopo debutta a Broadway, anche questo è tipico, diciamo ogni grande musical che viene lanciato ha sempre due produzioni nei due lati dell'Atlantico. A Broadway va leggermente peggio, nel senso che viene replicato per 18 anni ininterrottamente, 6138 recite, che sono il record di permanenza consecutiva in cartellone di uno spettacolo a Broadway, record che poi verrà superato dallo stesso Lloyd Webber, con il fantasma dell'opera. Da lì parte un successo globale, planetario. Si calcola che a tutt'oggi Cats abbia avuto una trentina di produzioni in tutto il mondo, compreso una versione italiana fatta a metà degli anni 90 da Saverio Marconi, abbia raggiunto nelle varie produzioni in tournée circa 300 città e si è stato visto da circa 73 milioni di persone. Tutt'ora viene periodicamente ripreso, in particolare l'ultima ripresa è recentissima, io l'ho rivisto in questa circostanza, è stato su sei settimane a Londra, al Palladium, che è quello meraviglioso dove c'è il buttadentro, il frac rosso davanti, sempre naturalmente, continuamente sold out, solo sei settimane e per l'occasione Lloyd Webber ha fatto alcune ritocchi alla partitura, ritocchi e direi aggiustamenti, vedremo poi cosa vuol dire questa cosa, però sostanzialmente, vi confesso, io lo vedevo per la terza volta e lo spettacolo è rimasto sostanzialmente quello che è sempre stato, è una specie di, come dire, di reliquia, di modello, di come deve essere, di come funziona un musical. La storia è molto semplice, anzi direi che la storia di Katz non c'è, e questo forse è l'unico limite di questa macchina teatrale per il resto perfetta, nel senso che essendo tratto da una serie di poesie, di filastrocche, se conoscete bene l'inglese, molto bene l'inglese, che non è il caso del sottoscritto, ve lo godete di più perché c'è anche tutto un lavoro di Iliott sulla lingua, sulla letterazione, sulle rime, sui giochi di parole e così via, dicevo, non c'è una vera trama, siamo in una specie di discarica dove si riunisce questo gruppo di gatti, i Gellicle Cats, un gruppo, i gatti come sapete sono animali sociali, con una loro gerarchia sociale, i vari tipi, un vecchio gatto patriarca che si chiama Old Deutonomy, si deve scegliere il gatto che salirà nell'empirio dei gatti, c'è questo strano rituale che i gatti compiono ogni anno, il vecchio gatto deve decidere chi è, in quel momento arriva una vecchia gattina, una vecchia diva sul Viale del Tramonto che si chiama Grisabella, che è quella poi alla quale, tra la quale Lloyd Webber scrive il pezzo più celebre, più straordinariamente celebre dell'intero musical che è il famoso Memory, notate che i versi di Memory non sono di Iliott, ma li scrisse il regista di questa produzione, della prima, della prima e della produzione che vedete, che è Trevor Nunn, che è un illustre shakespeariano, un'altra delle cose molto belle del teatro anglosassone è questa, che voi vedete le stesse persone una volta che saltano, ballano e cantano vestiti da gatti e poi la settimana dopo vi ritrovate che fanno amleto. Trevor Nunn, grande regista di Cesperiano, ha scritto, peraltro, basandosi su del materiale inedito di Iliott fornito dalla vedova agli autori, ha scritto poi i versi di Memory. Dicevo, arriva a Grisabella questa vecchia gattina che ha deciso di abbandonare il gruppo e quindi il gruppo snobba, arriva il gatto malvagio che fa sparire il vecchio gatto Old Autonomy, il capo della combriccola, per riaverlo i gatti fanno ricorso a un altro gatto che si chiama Mephistofele e che con dei giochi di prestigio fa riapparire il vecchio gatto, la vecchia diva in disarmo Grisabella canta Memory con una tale struggimento che alla fine i gatti decidono di riammetterla nel gruppo e di scegliere proprio lei per farla salire nell'empirio dei gatti immortali. Allora, la trama come vedete è estremamente estremamente come dire poco 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 teatrale diremmo e in realtà lo diventa perché il musical è costruito con estrema abilità su una serie di numeri per cui praticamente a ogni numero corrisponde l'ingresso di un diverso gatto e in realtà quello che manca in termini di coerenza drammaturgica di raccontare una storia viene ampiamente recuperato attraverso la caratterizzazione dei vari gatti che compongono del gruppo io adesso vi farei vedere un frammento prima però che musica scrive Lloyd Webber allora Lloyd Webber è io non so se sia un grandissimo compositore di certo è un compositore formidabilmente abile nel senso che riesce a scrivere questi musical che sono come un grande gioco di citazioni e di incastri dove Lloyd Webber diciamo rielabora in maniera del tutto personale e molto convincente come vi accorgerete se verrete a vedere lo spettacolo tutta una serie di materiali disparati c'è naturalmente il pop che è il linguaggio di Lloyd Webber c'è molto c'è qualche spruzzata di rock ci sono moltissime citazioni della musica fra virgolette colta addirittura sentirete state attenti al frammento che vi faccio sentire c'è una citazione dell'Hendel Sacro dell'Hendel dei grandi oratori che in Inghilterra hanno una lunga tradizione e una vasta popolarità c'è sicuramente anche un diciamo un un ricalcare la tradizione operistica dicevo Lloyd Webber in ogni musical mette almeno una grande melodia di quelle proprio che ti entrano nella testa pensate appunto a Memories di Cats o a Don't Cry For Me Argentina di Evita sono pezzi che entrano immediatamente nella memoria e direi nell'immaginario collettivo Memories è stata incisa o eseguita da tutti cioè dalle grandi pop star dalle rock star dai cantanti di opera dai cantanti jazz l'hanno cantata tutti quindi diciamo è un linguaggio musicale post moderno scusate la bestemmia nel senso che non sposa un'estetica definita ma direi che la abbraccia tutte riesce a costruire un linguaggio che è una serie di citazioni delle più svariate provenienze musicali che però si fondono armoniosamente in qualcosa che forse non è straordinaria musica assoluta ma è certamente una formidabile musica teatrale e voi mi insegnate che i compositori che scrivono per il teatro non si giudicano sulla base di come dire categorie crociane di poesia non poesia di bello di brutto ma sul fatto che la musica che scrivono per il teatro sia funzionale al teatro in questo senso Lloyd Webber è uno straordinario uomo di teatro è uno straordinario compositore di teatro musicale perché la sua musica è perfettamente adeguata alla situazione che la drammaturgia racconta e impone detto questo che è una mera come dire introduzione generale al nostro uomo e soprattutto al nostro musical io vi propongo come primo estratto che è un estratto video la scena proprio iniziale del musical quella dove il gruppo dei gatti si presenta non nella sua integrità perché è molto lunga ma in questo modo vi fate subito un'idea di che cosa andrete a vedere e fra l'altro il nostro fonico che ringrazio si chiama Gatti per una curiosa coincidenza e quindi proprio veramente siamo tous les tiens prego ecco allora intanto un'annotazione così en passant beh ogni volta che si vedono questi in azione questa è una registrazione non live cioè fatta nel teatro della nel teatro dello spettacolo ma non con il pubblico in sala ma vi garantisco che è così anche in sala e quindi ogni volta che vedi questi beh pensi che se poi l'opera venisse fatta con un decimo della professionalità della bravura con cui questi fanno i musical benvengano i musical anche perché all'opera capita più frequentemente di vedere dei cani piuttosto che dei gatti detto questo la questione che si pone naturalmente è quella a cui accennavo prima cioè perché ospitare in un teatro d'opera un musical beh intanto c'è una ragione pratica che possiamo anche dire che non è segreto per nessuno dopo l'ultima recita di Tosca i complessi artistici e tecnici del regio sono a Hong Kong per una importante tournée in loco e quindi naturalmente ospitare Kez che viene naturalmente tutto pronto con tutti i suoi complessi è un modo per riempire un buco della programmazione ma questa è una considerazione contingente il dato importante e interessante è che sempre più nelle stagioni dei teatri d'opera anche quelli più togati più nobili di grande tradizione come il regio appaiono questi titoli allora intanto non sempre è facile distinguere la distinzione dei generi in alcuni in alcuni casi appare discutibile difficile per esempio West Side Story di Bernstein cos'è? sì sicuramente è un musical ma è da sempre nel repertorio dei teatri d'opera e approda a Pentecoste d'estate anche al Festival di Salisburgo Porgy and Bass di Gershwin cos'è? è un musical o un'opera sicuramente nasce come musical però io ricordo che quando Gershwin andò a chiedere lezioni a Ravel Ravel gli disse guardi io non gliele do perché è molto meglio un grande Gershwin che un cattivo Ravel e quindi già alcuni titoli sono difficili da come dire decifrare a che genere appartengano Snow Boat di Jerome Kerner è da sempre nel repertorio dei grandi teatri d'opera americani ma c'è di più c'è il fatto che sempre più non solo diventa labile il confine fra musical e opera ma diventa labile il confine di quello che può o non può essere rappresentato in un teatro d'opera facciamo un esempio molto banale e più vicino alla nostra cultura l'operetta la Lustive Gvitve la Vedova Lega di Le Ar che è oggettivamente un'operetta è un titolo che viene rappresentato con assoluta frequenza nelle case dell'opera più reputate è arrivata anche alla Scala dove peraltro fanno anche Porg & Bess in questa stagione è stata incisa da Carian le operette sull'isano operette di Offenbach che sono in realtà delle opera buffe sono secondo me fra i massimi capolavori di tutto l'Ottocento sono di casa in qualsiasi teatro d'opera serio però c'è una considerazione da fare in più ed è questa vedete noi abbiamo un repertorio dei teatri d'opera che è composto in larghissima misura direi a occhio e croce più del 90% di titoli del passato passato ormai molto consistente abbiamo a disposizione dove pescare quattro secoli di teatro musicale di contemporaneo però c'è poco questo non vuol dire che non si continuino a scrivere delle opere e non vuol dire nemmeno che non siano vitali io personalmente negli ultimi sei o sette anni ho visto almeno tre titoli contemporanei secondo me assolutamente usiamo la parola vietata assolutamente capolavori che funzionano benissimo e possono tranquillamente stare in una stagione d'opera visto che poi sicuramente qualcuno me lo chiederà dico anche quali sono secondo me Written on Skin di Benjamin Aliados e l'ultimo titolo di Philly Day l'opera su Giordano Bruno che è appena debuttato però è un dato di fatto il che non implica un giudizio di valore che la gran parte della musica contemporanea non abbia un pubblico cioè purtroppo come sapete nel novecento per ragioni che non è qui il momento di discutere perché se no stiamo qui fino a dopodomani io voglio parlare di gatti si è come dire consumata una sorta di rottura fra i compositori almeno molti compositori e il pubblico sicché il pubblico della contemporanea è diventato un pubblico di nicchia un pubblico in qualche modo specializzato e appunto ancora più di nicchia di quanto non sia il pubblico dell'opera rispetto al pubblico generale della gente che va a teatro e questo significa che quando si fa l'opera contemporanea che attenzione io sostengo si debba fare perché è importante che si faccia perché è importante che la contemporaneità abbia delle occasioni per manifestarsi quando si fa l'opera contemporanea però si fa come dire per un pubblico che generalmente è composto di altri compositori di opere liriche contemporanee di specialisti di critici ma il pubblico il pubblico generalmente latita se ne fanno poche recite guardate ogni stagione di qualsiasi teatro vedrete che il titolo contemporaneo della prima assoluta ha generalmente un numero di repliche molto inferiore a quelle che si danno a Bohem o a Tosca o a Rigoletto e viene quindi il fondato sospetto che in fin dei conti la vera opera contemporanea oggi sia il musical e questo sospetto è tanto più fondato perché appunto ormai si moltiplicano i teatri che su questa diciamo ipotesi intellettuale scommettono scommettono investendoci investendoci produzioni investendoci interessi e vincono un caso abbastanza clamoroso è quello del teatro di Châtelet di Parigi lo Châtelet se voi sapete è il teatro della città di Parigi quindi dipende dal comune non dallo stato ed è un teatro tradizionalmente che ha una lunga tradizione di teatro musicale leggero cioè ci si fa l'opera ci si è sempre fatta l'opera ma ci si fa ci si faceva anche appunto Offenbach le operette di Louis Mariano eccetera un teatro leggero e popolare ecco adesso la scommessa dello Châtelet con un direttore che si chiama Jean-Luc Choplin è quella di provare a dire facciamo i musical come se fossero opere cioè in lingua originale non tradotti come del resto non sarà tradotto Kez che vedrete qui a Regio non tradotti anche per una banale ragione che non ce n'è più bisogno perché ci sono quei comodissimi sottotitoli quindi chi rimpiange i Wagner in italiano aurette a cui si spesso è soltanto un nostalgico perché manca la ragione per la quale si traducevano le opere in lingua originale con grandi orchestre mentre invece di solito i musical hanno delle orchestrine molto ridotte molto amplificate e ridotte con voci liriche importanti anche in commistione con le voci da musical che sono chiaramente diverse hanno un tipo di missione una tecnica diversa con grandi registi per cui si è visto Robert Carson che è il più importante regista d'opera del mondo di cui avete appena visto la piccola Volpastuta qui a Reggio mettere in scena allo Châtelet ma i Fair Lady o Singing in the Rain con grandissimo successo e sottoponendo spesso anche questi titoli di un teatro popolare di consumo come è il musical alla stessa rilettura e drammaturgica che si applica ormai anche al repertorio peristico il caso poi è diventato addirittura clamoroso quando lo Châtelet si è fatto paladino di un autore che si chiama Stephen Sondheim che è un importante compositore americano compositore ufficialmente di musical voi avrete sicuramente visto al cinema Sweeney Todd che è la versione cinematografica quello con Johnny Depp che fa il barbiere assassino nell'Inghilterra del settecento che è la versione cinematografica del suo grande successo del musical che si chiama appunto Sweeney Todd e poi ne ha scritti molti altri è imbarattante perché si fa fatica a definirli cioè sono musical sono opere no sono in bilico fra i due ma viene il fondato sospetto che come dire l'opera contemporanea sia in realtà quella ora questa è una tesi un po' se volete provocatoria e oggi ho scritto un pezzo su questo sulla stampa sono arrivate delle reazioni violentissime forse anche giustamente c'è uno che mi ha scritto che io avevo dovevo vergognarmi perché era appena morto Boulez e ho capito mi dispiace moltissimo a me è dispiace molto per Boulez però non credo che Boulez abbia avuto nulla a incontrare insomma anche perché io non dico che bisogna fare solo i musical e non eseguire più le martosso a un metro pli se non pli anzi più musica di Boulez facciamo e più sono felice perché mi piace un sacco però sta di fatto che non è una bestemmia che i teatri d'opera ospitino i musical non è una bestemmia perché il teatro musicale che è l'oggetto per cui esistono i teatri d'opera e anche il musical e soprattutto perché c'è come dire una risposta di pubblico che molta musica contemporanea disgraziatamente ne siamo tutti dolenti e dispiaciuti non ha questo naturalmente non come dire non deve impattare sulla vostra sulla vostra decisione di andare a vedere più o meno Cats tanto più che Cats sarà rappresentato invece proprio come musical cioè è la produzione originale fatta come la vedete a Torino come la vedreste a Londra o a Broadway o ovunque nel mondo sia stato rappresentato ecco però mi sembra che si debba oggi avere un'apertura mentale tale per cui come dire la sacralità giusta vera del luogo io penso che i teatri d'opera sono i luoghi sacri dove ci si mette la cravatta dove si spengono i cellulari dove non ci si mettono le dita nel naso e dove si ascolta con attenzione e in silenzio quello che viene fatto però la sacralità giusta giustissima sacrosanta del luogo non deve impedire di considerare che questi luoghi non sono musei ma sono luoghi di uno spettacolo vivente e lo spettacolo vivente oggi non solo oggi ma direi da molti anni è anche questo che oltretutto è anche un bello spettacolo diciamolo francamente allora secondo estratto dei Cats che vi propongo è appunto il il brano più più celebre insomma io credo che tutti l'abbiate ascoltato pischiettato non c'è non c'è cantante famoso discendendo fino la china fino all'orroro dei tre tenori di Bocelli che non l'abbia mai cantato è come dire è veramente un pezzo ruffiano perdonatemi la definizione nel senso che è impossibile non amarlo compare due volte compare due volte nel corso del musical nel finale del primo atto quando appunto alla festa sfrenata dei gatti danzerecci che avete visto entra questa vecchia gattina un po' Gloria Swanson sul Viale del Tramonto una che ha lasciato ha lasciato il gruppo per fare una carriera da solista l'è andata male adesso è invecchiata in povertà insomma come una patti pravo che torna a Sanremo e no povertà a parte per carità ma si chiama Grisabella e e canta la prima volta da sola nel secondo atto il pezzo viene allargato sviluppato diventa un duetto ed è il momento culminante diciamo di questa fragile drammaturgia di Cats cioè il momento nel quale il canto di Grisabella commuove gli altri gatti che la fanno rientrare nel gruppo e questo guardate è molto curioso e interessante perché perché qui paradossalmente paradossalmente con questa grande invenzione musicale e drammaturgica di Lloyd Webber torniamo alle origini del melodramma cioè in fin dei conti l'idea che il canto sia salvifico che il canto sia redentore che il canto sia ciò che salva è alle origini stesse del teatro musicale la prima opera si chiamava L'Euridice ed era la storia di un uomo Orfeo che con il suo canto recupera dall'Ade l'amore perduto nel primo grande capolavoro dell'opera che è L'Orfeo di Monteverdi 1607 alla corte dei Gonzaga Mantua pensate non potremmo essere veramente più lontani dal palazzo ducale di Mantua a un teatro di Broadway eppure l'Orfeo è basato sulla stessa cosa cioè sul fatto che l'arte di Orfeo fa risorgere Euridice dall'Averno e per la verità poi serve anche ad addormentare Caronte attraverso un'interminabile aria infiorita che fa addormentare il guardiano degli Ifri e permette a Orfeo di andare a recuperare la sposa allora io vi propongo la seconda diciamo il secondo passaggio di Memory che è appunto il momento musicalmente e soprattutto drammaturgicamente culminante di Cats lei è la grandissima Elaine Page che appunto fu quella che salvò lo spettacolo sostituendo al volo Judi Dench e vabbè adesso ce la sentiamo ecco voi capite che se uno si fa 73 milioni di spettatori stare a discutere se sia o no un grande musicista mi fa un po' ridere quando si diceva che Puccini era soltanto un melodista fa ridere perché tutti i giorni in tutto il mondo si danno le sue opere comunque al di là dei valori estetici di Cats voi avete notato che si parla di gatti cioè si tratta di un'opera celebrativa dei gatti ora questa cosa è piuttosto interessante perché appunto il ruolo diciamo del gatto nella storia della musica è abbastanza controverso e diciamo rispecchia il curioso atteggiamento che c'è stato nei confronti di quest'animale da parte diciamo della cultura occidentale negli ultimi duemila anni intanto voi sapete che il gatto è come dire più giovane del cane o del cavallo perché per una ragione molto banale no il pastore aveva bisogno del cane e del cavallo e l'agricoltore aveva bisogno del gatto perché il gatto mangia i topi e i topi mangiano il grano per cui la venerazione che voi sapete nell'antico Egitto circondava i gatti deriva da questo perché il gatto è indispensabile per l'agricoltura da qui le numerose mummie di gatto che vedete anche al Museo Egizio mi riferisco a quello di Torino e non al turno A della Scala e che sono la testimonianza di questa passione allora le cose come sapete cambiano col cristianesimo che ha un atteggiamento ambiguo nei confronti dei gatti perché da un lato si capisce che il gatto serve dall'altro il gatto ha questo aspetto anarchico come diceva Cocteau non esistono gatti poliziotto questo aspetto anarchico in qualche modo magico non completamente addomesticato e quindi leggermente pericoloso aggiungo che in questo senso l'Islam è molto più gattolico dei cattolici perché come voi sapete c'è benché il Corano non citi mai il gatto come del resto della Bibbia c'è una lunga tradizione che attribuisce al profeta una grande passione per i gatti si narra che una volta Maometto pur di non svegliare la sua gatta Muezzà che dormiva su un lembo della veste lui doveva alzarsi e tagliò la veste pur di non svegliare la gatta e d'altronde se i gatti cadono nei paesi musulmani se i gatti cadono si dice che i gatti cadono sempre sulle zampe è perché il profeta li ha carezzati sul dorso e quindi il dorso guarda sempre verso il cielo e come voi sapete per esempio nelle moschee i gatti sono ammessi recentemente a Istanbul c'è stata un'ondata di freddo e l'ulema ha emesso una fatua nella quale si invitavano a fare entrare i gatti nelle moschee dicevo il cristianesimo ha avuto un rapporto più difficile per esempio in realtà è l'epoca moderna come voi sapete che si dedica con più passione alla caccia alle streghe ma quasi sempre se voi leggete i verbali dei processi per stregoneria è presente il gatto il gatto che si accoppia il gatto demoniaco il gatto nero e così via da qui una certa una certa come dire mancanza del gatto per esempio nell'arte figurativa uno degli innumerevoli ritratti che fa Tiziano di Carlo V l'avrà ritratto venti volte credo ma c'è un famoso ritratto di lui in piedi con davanti un cane un bellissimo levriero perché il cane è simbolo di fedeltà e quindi sta nel ritratto del re per i gatti abbiamo per esempio un meraviglioso quadro di Bruegel in vecchio credo sia viena ma non sono sicuro che si chiama concerto di gatti dove si vedono un gruppo di gatti che fa una serenata a una gattina seduta sulla finestra è meraviglioso perché questi gatti che suonano vari strumenti hanno davanti uno spartito ma sullo spartito invece di ascire le note ci sono dei piccolissimi tupolini al posto delle note sta di fatto che quindi il gatto entra come dire piuttosto tardi piuttosto tardi nell'arte occidentale arte intendo anche la letteratura la pittura e così via benché per esempio noi abbiamo un madrigale di Orlando di Lasso quindi siamo a metà cinquecento che si intitola Oh Lucia Miau Miau però dicevo è un animale come dire che ha una storia un po' ambigua ricordo che per esempio in Francia fino a Luigi XV era Lusanza a Parigi in Place de Greve la piazza delle esecuzioni capitali quella dove c'è il teatro di Châtelet attualmente di cui vi ho parlato prima fino a Luigi XV c'era Lusanza il giorno di San Giovanni del rogo dei gatti si appendeva una gabbia piena di gatti su un rogo si dava fuoco alla legna e i gatti morivano a far attorci sofferenze ecco la cosa cambia inizia a cambiare nel settecento nel 1727 François-Auguste Paradis de Moncrif scrive La storia dei gatti che è il primo libro a favore dei gatti i gatti sono molto maltrattati dal conte di Buffon che è il più famoso naturalista del settecento collaboratore dell'Encyclopedia che è uno che veicola alcune delle frottole che si raccontano sui gatti che non sono affettuosi che si affezionano solo alle case non agli umani e così via la cosa cambia dicevo nel corso del settecento e esplode nell'ottocento l'ottocento romantico è l'ottocento dei gatti sono tutti pazzi per i gatti sono tutti gattolici gattofili a livelli di follia Chateaubriand per esempio è un caso più unico che raro perché ambasciatore di Francia presso la Santa Sede alla morte di Papa Leone XII nel 1829 grande imbarazzo in Curia perché il Papa aveva un gatto racconta Chateaubriand che se lo teneva sulle ginocchia anche quando concedeva delle udienze del resto anche Ratzinger ricorderete era un gattolico convinto imbarazzo in Curia perché non si sa a chi dare il gatto cosa si fa del gatto del Papa quando muore il Papa è un problema teologico e cerimoniale gravissimo per fortuna c'è Chateaubriand lo regalano a lui e ci sono due pagine dei Memoir d'Utratombe dove Chateaubriand fa dei romanticismi su questo gatto di nome Micetot cioè che sarebbe Micetto ma lui naturalmente lo pronunciava alla francese che nato nelle stanze di Raffaello cresciuto sotto il cielo il bel cielo italiano viene deportato nella casa di campagna di lui alla Vallée Olupe un posto orrendo reso ancora più orrendo dal fatto che ci abitava la moglie che Chateaubriand detestava e qui comincia la fortuna del gatto anche in musica perché se abbiamo una sonata di Scarlatti che è chiamata La fuga del gatto nell'Ottocento e ancora più nel Novecento c'è l'esplosione del gatto musicale ricordo per esempio che un waltzare di Chopin direi il numero 3 dell'opera 34 è noto come waltzare del gatto e addirittura fioriscono gli apocrifi e qui vi introduco un brano che voglio farvi sentire che è formalmente che si dice essere di Rossini ma in realtà non è di Rossini si chiama Duetto buffo di due gatti e in realtà fu messo insieme da un certo Bertold non chiedetemi chi fosse perché non lo so che prese un tema di una cattencavatina cartina del gatto di un compositore danese contemporaneo di Rossini che si chiamava Weise non chiedetemi chi fosse perché non so chi fosse nemmeno lui e ci appiccicò una cabaletta che è in realtà la cabaletta dell'aria di Rodrigo del secondo atto dell'hotello appunto di Rossini questo Duetto buffo di due gatti che è effettivamente delizioso ha avuto una estremilata fortuna in sede sia esecutiva che discografica e qui ve la propongo in una chicca purtroppo solo audio ma una chicca veramente deliziosa perché di solito si affida ovviamente a due voci femminili c'è una famosissima incisione della Schwarzkopf con la de los angeles c'è una poco meno famosa ma altrettanto bella incisione della gruberova ancora a fase premummia con la casarova in cui invece la sentiamo in una insolita molto insolita incisione per due voci maschili uno è Rockwell Blake che naturalmente conoscete straordinario a tenore rossiniano che duetta con un controttenore purtroppo mancato Gerard Lesne e a completare la festa a farci fare le fusa c'è il fatto che al pianoforte suona Antonio Poppano prego ecco poi naturalmente ci sono i gatti musicisti come voi sapete se voi avete un gatto avrete notato che hanno spesso strane reazioni davanti alla musica per esempio Tufil Gautier grande scrittore l'ocento francese che a un certo punto fa anche il ripassatore di spartiti racconta così le reazioni della sua gatta seduta su una pila di spartiti ascoltava attentamente con piacere come un critico musicale qui Gautier si sbaglia perché i critici musicali non ascoltano mai con piacere le cantanti che accompagnava al pianoforte approvava i saggi delle loro capacità ma le note acute le davano sui nervi oppure c'è questa gatta del pittore Balthus che nelle memorie scrive ascoltano i soggetti sono i gatti ascoltano Mozart con me mentre mi assopisco dietro le vetrate del salotto che lasciano passare il chiarore dorato del sole pomeridiano devono conoscere a certa memoria la partitura del così fan tutte e poi il caso più clamoroso ripeto è sempre quello citato da Paradide Moncrif che addirittura sostiene che un arpista una famosa arpista del settecento francese fosse diventata tale grazie alla sua gatta pare che Mademoiselle Dupy un arpista all'epoca molto famosa dovesse al suo gatto di cui purtroppo non sappiamo il nome e qui comincia la citazione la raffinatezza artistica a cui era arrivata infatti quando si esercitava l'arpa il gatto l'ascoltava con attenzione e la musicista si accorse che il gatto mostrava diversi gradi di interesse e di commozione a seconda della precisione e armonia con cui eseguiva i brani ecco nemmeno io sono mai arrivato a Taranto dicevo nel novecento questa cosa esplode nel senso che le pur numerose tracce di gatti nella musica sempre crescente nel coso ottocento nel novecento esplodono per cui se nell'ottocento abbiamo per esempio una bellissima purtroppo poco eseguita ma molto bella piccola opera di Offenbach che si chiama la femme pardon scusate la chat metamorfosea en femme la gatta metamorfosizzata in donne abbiamo per esempio un balletto di Adam quello di Giselle che si intitola la chat blanche la gatta bianca abbiamo di L'oeuvre il grande liderista un un lead che si intitola di Ketzen Königin la regina dei gatti su testa niente meno che di di Ciamisso abbiamo un duetto di Mussorski dedicato ai gatti beh abbiamo il gatto e la gatta che comparino nella bella addormentata nel bosco di Tchaikovsky il novecento esplode la gattomania esplode per i compositori del novecento c'è una musicologa tedesca evidentemente folle che ha fatto un catalogo di tutto quello che è gattaro nella storia della musica che peraltro tiene aggiornato anche su internet quindi se avete bisogno andate lì ma il novecento è pieno allora Schoenberg nei brett leader meine Freundin hat eine schwarze cazze la mia amica amichetta ha un gatto nero Reger Umperdink quello di Hansel Gretel Wow Wow Miaudwitt da un'operetta che si chiama Di Blaue Vogel L'uccellino azzurro Eitor Villalobo quello del Bacchianas Brasileiras O Gato e Orato il gatto e il torpo Stravinsky naturalmente alla Bersos di Chà per voce femminile tra i clarinetti Sati la chanson di Chà Hindemith nel da Satonale Cabaret c'è un lead dedicato al gatto Prokofiev Pierino il lupo compare naturalmente un gatto che ha la voce diciamo così del clarinetto Britton For I Consider My Cat Joffrey quando considero il mio gatto Goffredo una cantata per correre organo Milo Le Chat eccetera eccetera in particolare poi abbiamo il gattaro ottimo massimo della musica del novecento prima di Ketz che è naturalmente Maurice Ravel allora Ravel voi sapete va si innamora di un testo di Colette sul quale scriverà una delle più belle opere del novecento in assoluto che è La Enfale Sortilège Colette è la grande scrittrice gattolica a livelli di delirio di follia lei abitava nel Polè Royale e ogni volta che perdeva un gatto li perdeva continuamente perché ne aveva moltissimi l'intero quartiere veniva bloccato dalle ricerche dei gatti di Colette lui si innamora di questo testo che inizialmente nasce con l'idea di fare un balletto per bambini però nel 1918 Ravel si trasferisce cambia casa va a stare a Villa Belvedere nel parco di Versailles e di fronte si trova una colonia di gatti siamesi voi sapete che i siamesi sono i gatti che miagolano di più racconta una giornalista americana che lo andò a trovare era convinto di comprendere la lingua dei gatti e che loro comprendessero le sue risposte spesso esprimeva questa convinzione anche nel lettere agli amici e li teneva al corrente del loro rumore e delle loro birichinate da qui Ravel decide di inserire nel deliziosissimo libretto di Colette per la non fa le sorti d'Age la trama di un bambino l'hanno fatta anche a Regio non molto tempo fa di un bambino dispettoso capriccioso che fa i capricci viene messo in punizione e la stanza nella quale è rinchiuso si anima prendono vita agli oggetti poi prendono vita anche gli animali del bosco e Ravel inserisce nella fada del sorti d'Age un duetto di due gatti c'è tutta una discussione se il duetto appartenesse alla versione originale dell'opera oppure no pare che sia stato Ravel a inserirlo senza grandi problemi perché i gatti dicono sono miau però è una pagina assolutamente straordinaria tutta l'apertura dell'anfalia del sorti è straordinaria questa pagina secondo me lo è ancora di più questo ve la propongo come ultimo ascolto terminale col quale vi saluto perché devo parlare un'ora e un'ora è stata ma un po' di più si tratta di una peraltro meravigliosa incisione dell'opera l'ultima che è apparsa sul mercato diretta dal grande vecchio Seijo Zawa con i suoi complessi giapponesi del suo festival giapponese loro sono ve lo dico subito la gatta e Marine Normand il gatto che in questo caso ha voce di maschile se lo trovo ve lo dico si chiama Elliot Madore e sono due minuti di puro genio poi traiamo le conclusioni prego bene allora questo era il duetto dei due gatti del Anjole Sortilège di Ravel tiriamo un po' le somme ci siamo un po' allontanti da Chezza ma mi sono fatto prendere la mano dalla mia passione felina però ci sta tutto insomma perché Chezza appunto è anche una grande celebrazione del gatto ultima cosa che vorrei dirvi ne raccomandarvi di andare a vedere lo spettacolo cosa che vi raccomanda anche il Teatro Regio e in particolare il suo botteghino è di se mi permettete un consiglio di andarci con come dire mente sgombra di pregiudizi e soprattutto non con l'atteggiamento del divertissement cioè intendiamoci il musical è divertissement non è un tipo di teatro che come dire chiami in campo ci ponga delle grandi questioni sociali morali politiche come può essere un'opera di Verdi o di Wagner è un teatro di intrattenimento però è grande teatro è un teatro che funziona è un teatro molto teatrale passatemi l'espressione è un teatro che è fatto per il teatro è un teatro che è fatto per il pubblico è un teatro che è fatto per piacere quindi anche io credo che anche chi appunto preferisce i cani so che c'è anche gente di questo tipo possa comunque divertirsi comunque apprezzare ma soprattutto ripeto l'atteggiamento giusto secondo me per porsi davanti a questo che è nel suo genere un capolavoro debba essere quello di non andarci con lo spirito di chi va assistere a un divertissement benché poi sia un divertissement ma con una mente diciamo aperta sgombra non è una cosa minore ecco vorrei insistere su questo punto non è un come dire un genere minore anche perché poi vedete capita purtroppo capita sempre più spesso che molte cose che abbiamo snobbato in passato con un po' di puta sotto il naso dicendo ma si sono popolari sono pop si rivedano poi si rivedano poi invece molto preziosi e molto importanti sapete una volta si diceva beh che i film di Totò erano proprio il ground zero della volgarità e dell'orrore ed erano tollerabili perché servivano per fare i soldi per pagare quelli di Visconti ecco talvolta capita che il miglior Totò sia meglio del peggior Visconti e quindi attenzione perché oggi uno mi ha risposto su Facebook dove avevo postato l'articolo di oggi dove appunto sostenevo la tesi che il musical sia l'opera della contemporaneità mi ha risposto dobbiamo aspettare 50 anni per vedere se fra 50 anni si faranno ancora questo forse è vero a parte il fatto che sapete ci sono le rivoluzioni del gusto sono sempre lì a fregarci nessuno avrebbe scommesso 50 anni fa sull'opera barocca per oggi e l'opera che forse interpreta di più il nostro tempo ecco allo stesso modo dico va bene vediamo se fra 50 anni si parlerà ancora di Andrew Webber sta di fatto che questa roba qui che avete visto prima esiste dal 1981 ormai sono passati quanto 35 anni che non sono 50 ma insomma poco ci manca e continua a piacere continua a funzionare continua a entusiasmare e commuovere ecco se vi posso dare un consiglio è quello di andare a teatro pensando di assistere non a un Puccini a un verde minore ma a un grande Lloyd Webber ecco questo vi divertirete molto arrivederci ovviamente strepitoso Alberto Mattioli grazie credo che non esista una persona a proprio agio tra Bayreuth e Broadway purtroppo non posso andarci quanto vorrei intendo non a Bayreuth ma a Broadway va bene abbiamo un pezzo di Broadway qua se vogliamo il maestro fornire completa diciamo questo panorama felino del novecento con The English Cat di Hens da Balzac no gravissimo gravissimo sì me l'avevo anche segnata no assolutamente ho dimenticato uno dei capolavori gatteschi che sono dipende dal lavoro di una gatta inglese di Hens che sono tratte da Balzac e poi se vogliamo scusate ho dimenticato anche questa è molto grave un altro giellino è il gatto con botas il gatto con gli stivali di Xavier de Montsalvatge importante compositore catalano del dopoguerra però sì ecco ho dimenticato Hens è molto grave anche perché ci ha lasciato da non molto quindi certo grazie ci rivediamo il 16 marzo quando parleremo di Cenerentola però vi dico anche che quel giorno il mattino sarà presentato il festival che la città di Torino dedica ad Alfredo Casella un altro novecento un'altra cosa completamente diversa ma mi fa piacere prospettarvelo perché c'è diciamo la collaborazione di molte istituzioni non solo musicali torinesi che hanno cucito diciamo sartorialmente due settimane dedicate a questo compositore che non solo è torinese ma che al principio del novecento ha fatto molto per la musica italiana ma poi mettiate anche la lapide sulla casa natale no no c'è già grazie alla prossima